Sono Andrea Contigiani, sono il direttore del Circo Algo a Filadeste, si trova a Montorfano, vicinissimo a Como, vicinissimo al lago di Como, un posto veramente meraviglioso con più di 60.000 piante, un posto storico perché è dal 1926 che esiste questo campo e ho veramente l'onore di poter lavorare qua. Oggi abbiamo la tappa della Harry Cotton's Gold Trophy, giornata eccezionale come clima, come partecipazione soprattutto perché 170 partecipanti sono veramente quasi un record per noi di giornata. I partecipanti entusiasti dello sponsor hanno avuto maglietta, maglietta, hanno avuto le palline, hanno avuto il loro antivento, veramente il cappellino Enrico Cotton's, quindi tutti molto molto contenti, la gara sta andando molto bene, già in segreteria ci sono dei punteggi straordinari e quindi speriamo di vederci ancora l'anno prossimo qui su questi fairway. Grazie a tutti, ciao ciao!